Il principale motivo per cui non mi sono mai perso in quelle branche della dipendenza ridicola tipo tabagismo è riconducibile proprio nella sua interezza al fatto che sperperassi tutto il mio già all'epoca poco denaro in pezzi di carta stampata eventualmente brillante. Dipendenze che in ogni caso non mi sono state strane, visto e considerato che comunque un approccio per quanto relativamente morbido alla ludopatia me l'hanno dato. E sono molto felice di constatare come negli anni comunque ci sia stato un approccio generale al collezionismo di massa in modo tale che tutti potessero fruire di questo hobby diciamo accessibile con la botta di serotonina quando trovi una carta che mi piace fosse una che puoi star cercando o semplicemente un'altra che non sapevi nemmeno ci fosse ma che nel trovarla hai avuto quel guizzo frizzo di serotonina. Ovviamente le cose belle non possono durare perché il capitalismo deve sempre, 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 sempre rovinare tutto quello che tocca. Come fosse un remida però anziché oro è merda radioattiva e con estremo sconforto vivendolo da vicino ho potuto constatare quanto ora la situazione sia completamente spuggita di mano a livelli a dir poco raccapricciati, creazione di mercati neri, inghingheri, belli, illustrati, piacevoli, creazione di contenuti disgustosi avvalorando una macchina del letame, anzi no neanche perché il letame un'utilità ce l'ha allora sta diventando una macchina di scarti radioattivi impossibili da smaltire figli di un tempo che stiamo vivendo come società apta al consumismo più becero possibile immaginabile perché quello che accade oggi nel mondo delle cazzo di carte è, non lo so, è allenante il mio ambito di riferimento comunque ricade in Yu-Gi-Ohio e i Pokémon perché sono quelli che comunque ho sempre vissuto che uno lo gioco ancora dopo averlo perso di vista degli anni e l'altro ci sono fondamentalmente nato con un franchise che continuo a fruire e lamentarmi a oggi nonostante le carte abbia imparato proprio il gioco di carte molti anni dopo e vabbè, ha avuto sempre un tiro e molla per entrambi dove col primo c'erano le carte che mi hanno fatto seguire il cartone l'altro poi ha iniziato il cartone ma mi aveva incuriosito il gioco però appunto dei due i Pokémon è un discorso molto più ampio andando un po' a essere complementari l'uno dell'altro ma non è che sia qualcosa che mi avrebbe mai potuto preparare a ciò che avrei trovato tutto questo tempo dopo per entrambi ma roba da pazzi, assolutamente è sconcertante il vaso di Pandora che hanno scoperchiato col peggior tanfo ma uno schifo a livello umano che potesse esserci dentro proprio irredimibile senza alcuna qualità positiva non è rimasto letteralmente nulla se non un prodotto che viene creato e subito dopo ci si buttano addosso e a voltoio, a speculare, rovinando letteralmente tutto dei piccioni che salgono su una scacchiera e esplodono un geyser di di centiglia esattamente com'è nel mercato dell'arte tradizionale quello delle statue, dei quadri, dei pinti, quello lì giù di lì ed è correlato perché si tratta sempre di arte illustrata ma da persona che ha toccato con mano quell'ambiente io posso assicurare che sia davvero lo stesso brodo poi certo è sempre stato così ora non voglio essere intellettualmente disonesto perché gli speculatori ci sono sempre stati ma il problema è che con internet e l'avvento dell'e-commerce dunque l'accessibilità parola estremamente chiave che voglio sottolineare l'accessibilità ha reso possibile questo mercato nero continuasse a proliferare assestandosi definitivamente parallelo a quello ufficiale del comprare pacchi e pregare tutti i santi dello sperare sbuchi la carta che stai cercando altrimenti te ne vai a fare in culo ragion per cui piano piano si è potuti andare un po' per comunità un po' per dire vendo meno a comprare singole e dare denaro a questo effettivo mercato parallelo che ormai sta alla luce del sole rendendo tutto quanto uno schifo melmoso, paludoso e informe che ruota intorno ai soldi dove è tutto questa quanto male questa quanto costa questa quanto non li vendo dimenticando il punto focale di questa realtà ovvero avere una passione per ciò che si vuole andare a collezionare provando dell'affetto per quello che si ha tra le mani e in primis del rispetto per gli artisti alla base più semanticamente fondamentale possibile difatti questo approccio puerile e venale a chi si rivolge a chi vuole avvagare affacciarsi al collezionismo ma assolutamente no figurarsi loro sono una fetta ormai molto molto minore di chi avrebbe di chi dovrebbe realmente fruire dei canali accessibili atti ad accrescere la propria collezione per una soddisfazione personale infatti tutto questo marasma di stronzi galleggianti nella corrente va coerentemente a indasare e occludere quei canali di accessibilità e anzi pare proprio una presa per il culo confiando prezzi con tanto di quella moto abbastanza precorretrice negli NFT dove tu paghi l'idea di una condizione qual è il gradare le carte ehi mao e tutto questo al fine di voglio andare a creare un business che soltanto a riputarlo tale mi viene la nausea e chi ci va di mezzo sono semplicemente e unicamente i veri appassionati che da in senso abbastanza letterale poveri disgraziati bastardi vorrebbero giusto giusto portarsi a casa al pezzo di carta colorata che si va cercando però appunto visto quanto il mercato è autoregolato il valore la storicizzazione il numero e mi sa che è pure promo e caro appassionato mi sa pure che ti inculi come dicevo prima io comunque mi affaccio soltanto a due contesti che sono quelli di i go e i pokemon dove per quanto il primo sia estremamente altalenante come fosse un gioco in borsa perché soprassependo alle fregne o eventualmente edizioni sbrillanti che faranno più delle oriche tamarrissime di quelle falsissime orrende che se le metti in controluce ti bruciano il muro di base si affaccia interamente al meta dove se un guillante a un torneo dovesse vincere con una carta in più rispetto al solito roster che sono sempre le stesse sempre precise uguali identiche sono tutti uguali mazzi di b del meta grosso tutti identici cambieranno quattro mostri ma sono tutti uguali ma questo è un altro discorso però se dovesse vincere con una carta diversa rispetto al roster magari il metti costava due euro nel momento in cui lo si vede trionfare si aggiungeranno un paio di altri zeri e ancora scarsità perché Konami è stupida in culo e io personalmente per avere una seconda copia di una cazzo di carta comune sminchissima che si può usare come cazzo di ferma porta che dovrebbe valere due centesimi la trovo dai quattro euro in su perché la trovavo soltanto in un mazzo non è mai stata più ristampata altrove quindi vi al galoppo a fare in culo dove per una comune del cazzo mi devo a propinquare a un reale giro che pare l'ibrido fra l'accesso al DLC del primo Dark Souls in blind e le prime attivazioni dello speed non lo so io prendo una corda e mi impico però almeno dici con i pokemon una situazione diversa ovviamente no però di suo ha un contesto che l'inflazione è differente che per l'amor del cielo è meglio non cercare mai su google pokemon inflazione però chiusa la parentesi feticida lapidare per strada con la scusa che verte tutto su una fantomatica rarità che appunto se li fa anche in questo caso preciso identico al contesto del mercato dell'arte e che per quanto possa rifarsi resta comunque una farsa di lega molto bassa ed è in ogni caso una matrioska dell'imbarazzo in primis il vedere come tali sciacalli proseguono imperterriti a darsi un lustro da mercanti di scure inge fritte il peggiorativo è che bisogna tenere in realtà conto dei soggetti che vengono raffigurati perché se hai il consueto chatter o le immancabili immancabili ragazzine minorenni magari pure scosciate binotte la gente esplode e diventa pronta a tirare quanti più soldi possibili lucrando il lucrabile o ancora di più il primo set perché il base cazzo mega vuoi mettere non ne sono mai stati stampati altri no non esistono quello è il legittimo sacro graal puntato da ogni merda di categoria di avvoltoio sciacallo scalper ed epiteti che mi tengo da parte per più tardi poi cos'altro mi ha lasciato per presto ah si mi sono momentaneamente affacciato al panorama Digimon e One Piece soprattutto perché ero curioso del secondo ma pure là che bel quantitativo di smerdo perché giustamente carte che va è merda che trovi visto che nel secondo potenzialità virtualmente infinite ma lì sagra dell'imbarazzo che quelle che sembrerebbero costare di più a quanto pare sono o ancora fregne o se no dei banali copi in colla del manga numerati perché apriti cielo non c'è la scarsità artificiale su cui lucrare ancora pilpe cugna con qualche panel relativamente simpatico però davvero creativamente morte Magic invece di molto 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 recente ho assistito alla pubblicazione di una banlista che a quanto parrebbe starebbe facendo strappare metaforicamente i capelli resistenti di chi ci ha costretto un business delle carte colorate stampate e a quanto ho capito e da quanto mi è sembrato di capire c'è stato un affossamento vagamente simile al contesto meta di Igo ma non lo so mi sembra puntualmente una stronzata fumante che gli ha goduriosamente colpito il ventilatore acceso quindi se c'è gente che ha sciacallate e ci sta rimettendo io di mio sono che contento anzi spero vivamente che gli peggiori tutto quanto e baffanculo tutto questo lungo discorso di lamentela per dire cosa ma semplicemente che quando si entra in contatto con un mondo che vive di appassionati e decidi semplicemente di buttarti a lucrare sulla pelle di persone appassionate che anziché vedere l'arte e anziché vedere il bello ignorando tutto ciò che non ha un ipotetico valore di reinvestimento e il tutto parassitando i punti ciechi dell'inefficienza di aziende che non si buttano a ristampare il ristampabile perché se ne sbattono i coglioni della loro stessa utenza e hai soltanto l'istinto di venire spinto da un fantomatico guadagno allora sporco infame maledetto barile di dissenteria bastardo stronzo pelato macchiagato di merda netto alla vita campione del fallimento idiota imbecille tanto vale riconsiderare la propria presenza da questo lato della crosta terrestre perché se davvero dovesse esserci mai stata un'anima in quel corpo maledetto di certo molto tempo fa deve aver preso ispirazione da jules verne e se ne sarà andato a fare in culo viaggiando al centro della terra gen si va degradato psa 9.8 la grecia col sopila arriva neanche a metà